E' un po' imbalizzata solo. No, io inizierei da qua, Andrei, e allora io incomincio, beh, sono Geremia, sono Diomegna. Uno, due, tre, uno, due, tre. Vai! Allora, in pratica è l'inizio di... Eh, ma questa qua è una di quelle maglie che ho fatto fare io. Eh già, eh, sono mie foto. Sarebbe più divertente se ci fosse lei. Almeno chiacchiererei con lei e mi ricorderei più cose, probabilmente. Che cosa devo dire quando? Non sono molto fotogenica, anzi, io sono cartigenica, dico sempre. Simone, adesso tu? Racconti? Cosa? Racconti? Oh, apina. C'è anche un'ape. Ciao. Io che rido, perché sicuramente riderò. Parlo già così, vado? Chi c'è? Parlatto, sei stata bravissima. Sì, ho proprio fatto improvvisazione. Prego, prego. E tu invece? La colonna portante? È la nostra. Me ne vado. Veramente me ne vado. Però non sapevo cosa devo fare, se dovevo muovermi, se non dovevo stare... Cioè... Un video, mentre parlo di una cosa. Siamo a Megna. Siamo a Megna. E ora... Sì, che sono anche imparipennate, perché vedi che partono due a due e poi ce n'è una. Sono dispari. Devo raccontarti tutta la storia del motivo per cui stiamo sotto il cono all'aperto. No, anch'io però mi dà un po' di ansia. Ma il problema non è adesso, è il problema è quando lo guarderò. È vero. Tutto solo. Sono la storia. Ma tanto ci prende di schiena. Metti sugli occhiali da sole. Questo è stato più imbarazzante che parlare. Sto mandando i capelli. Ma quindi tu mi senti come se io fossi vicino a te? Fico. Ah, non vuole farsi intervistare? Ah, lui sì. Ciao. A Umegna noi, tutte le vecchiette io le conosco, tutte. Quindi posso iniziare a raccontare così a random? Ma mi pare in mezzo e ho detto, no, che brutta. Non lo voglio fare mai più. Taglia qualche stronzato ovviamente, che io ne dico un botto. Azione, vado. Cioè, non devo più dire niente, nel senso... No, va benissimo. Penso che non lo vorrò guardare.